Siamo a Rutino nell'azienda di Alfonso Rotolo e come potete vedere dalle immagini siamo di fronte alla grande mozzarella di bufala e siamo di fronte al grande vino Fiano che produce Alfonso. Quale autorevole parere se non più del suo ci potrà chiarire qual è il vino più idoneo per questo tipo di formaggio? Io spero che il mio fiano sia idoneo per questo tipo di formaggio, è un riabbinamento non facile perché sui latticini così delicati secondo me c'è bisogno il fiano può essere idoneo ma deve essere anche un particolare tipo di fiano che debba avere dei profumi sicuramente belli presenti ma non eccessivi che debba avere un'acidità equilibrata ed un finale non eccessivamente amaro piuttosto dolciastro per potersi abbinare in modo poco invasivo secondo me solo mozzarella Io credo che per le caratteristiche del fiano nostro tipico del Cilento si possa fare un bel lavoro da questo punto di vista però chiaramente è una cosa che dobbiamo fare e adesso sono tutto emozionato perché dobbiamo vedere in queste due bellissime mozzarella se la mia creatura è all'altezza di questo abbinamento Io penso sicuramente di sì, è per questo che siamo qui Alla salute!